Due episodi inquietanti avvenuti a distanza di poche ore sui quali la polizia di Stato sta cercando di fare chiarezza. Si torna a sparare a San Severo in provincia di Foggia dove ieri, martedì 15 ottobre, due persone sono rimaste ferite in altrettante sparatorie, fortunatamente in maniera non grave. La prima si è verificata all'alba quando un 37enne straniero è stato raggiunto da un proiettile nella parte alta del torace. Il fatto è accaduto all'interno di un oliveto nelle campagne sanseveresi. L'uomo, sanguinante, è salita in macchina e ha raggiunto autonomamente l'ospedale Masselli Mascia dove è stato medicato dai sanitari che, come da prassi, hanno informato della cosa alla polizia di Stato. Poche ore dopo il secondo misterioso episodio, anche questo avvenuto in un fondo agricolo in zona Santo Spirito, alle porte della città. A rimanere ferito un ventenne straniero raggiunto da colpi di arma da fuoco. Ancora da ricostruire i dettagli della vicenda. Il ragazzo è arrivato ferito al pronto soccorso. Ad accompagnarlo in ospedale sarebbero stati alcuni agricoltori della zona che hanno trovato il giovane accasciato a terra sanguinante. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Un paio i colpi che sarebbero andati a segno, ma è probabile che ne siano stati esplosi anche di più. Su questo e su altri particolari della vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di San Severo, impegnati a fare luce sui due ferimenti per risalire ad un possibile movente. Da chiarire se gli episodi possano in qualche modo essere collegati tra loro e se possano ritenersi uno la risposta all'altro.